buonasera milano allora il milan fa una figuraccia udine però si sente parlare del record di braimovic e beh mi sembra giusto no ma sapete cosa io direi che rivediamo un po le immagini io non posso farvele vedere però le guardo io le commento perché non vorrei aver avuto delle amnesie quindi tomori anticipato secco poi si fa bere ma tomori non era mica un fenomeno difensore fortissimo questa è stata una baccata di tomori e andiamo avanti andiamo avanti vediamo un po questo è un tiro in porta di deao parata di silvestri vediamo un po a questo è il rigore questo è il rigore ma io non ho capito una cosa ragazzi ma cosa dice il regolamento perché io ho visto un fallo di mano però prima la palla è sbattuta sulla coscia del difensore dell'udinese poi è finita sulla mano l'arbitro non aveva dato il rigore ed era lì vicino è quindi con la visuale bella chiara ma cosa gli hanno detto cioè l'hanno richiamato per cosa ma secondo voi può non aver visto il tocco di mano secondo me ha visto coscia e poi mano e non ha dato il rigore qualcuno poi dopo forse gli ha fatto notare che quel rigore era un rigore che avrebbe dovuto dare perché lo dice il regolamento oppure perché al milan era un po che non davano un rigore no spiegatemelo io non sto dicendo è rigore non è rigore io voglio sapere ma questa cosa che quando prima tocca una parte del corpo e poi la mano non è rigore vale per tutti tranne che per il milan o se no se non è così spiegatemi perché non ho capito per quale cazzo di motivo hanno dato questo rigore poi vabbè il rigore viene fatto ripetere prima lo sbaglia Ibrahimovic il rigore poi viene fatto ripetere perché il il difensore dell'udinese entra in aria prima che il rigore venga battuto e di conseguenza poi si avvantaggia nello spazzare ma facendo un favore al milan perché su quella palla non c'era nessuno del milan per poter ribattere quindi però vabbè questo mi sta bene che facciano ripetere il rigore mi sta bene spiegatemi però qualcuno ci sarà qualche milanista che sta guardando sto video che mi rompete le palle tutte le volte mi insultate se state guardando voglio un milanista che mi spieghi perché questo è rigore altri uguali no e non mi dite che era un po che non davano un rigore al milan non me ne frega nulla voglio sapere perché è stato dato questo rigore e altri uguali no ok andiamo avanti va beh poi è spulso sottile che giustamente si incazza perché non capisce non capisce tutta sta situazione però comunque sottile non è che sia uno stico di santo e poi il milan riesce a segnare il rigore con ibraimovic e sempre nel primo tempo riesce a prendere il 2 a 1 quindi non chiude il primo tempo sul risultato di 1 a 1 ma riesce a beccare un altro gol vediamo un po ok azione sulla sinistra dell'udinese vediamo un po ma chi è che c'è in marcatura c'è in marcatura ciao quel fenomeno di ciao che permette all'attaccante dell'udinese di calciare da dentro l'area piccola mamma mia ragazzi il nuovo fenomeno della difesa del milan ciao che fa una vacata via l'altra eccolo là ma che bella marcatura ma come si fa a marcare l'uomo in quel modo ma me lo spiegate questa aveva già fatto una cazzata contro la salernitana che aveva lanciato aveva fatto un errore che aveva lanciato di ami sembra a campo aperto cioè praticamente si è presentato da solo e poi ha fatto il miracolo megnan ma siete sicuri che sia un fenomeno questo ciao visto che ne parlate tanto di te ma è fortissimo una vacata tomori una vacata lui meglio tomori comunque dei due andiamo avanti andiamo avanti vediamo un po che il milan qui sta perdendo 2 1 quindi deve cercare di non mi sembra che stia creando molto il milan a questa questa è un'altra vacata di ciao guarda qui palla per il difesa palla per l'attaccante dell'udinese chi è beto success success forse lui non lo riesce a marcare allora prende si butta in terra sperando che gli diano un fallo che non esiste non posso farvi vedere ma andatevelo a vedere voi se no mi chiudono il canale se faccio vedere le immagini quindi si sdraia per terra e poi vabbè il milan prende gol perché a seguito di questo sono posizionati male e beccano anche il 3 a 1 chiedendo un fuorigioco che non esiste questo è un'altra occasione dell'udinese con con pereira allora ragazzi quindi il milan secondo me aiutato dall'arbitro perde comunque 3 a 1 la partita i fenomeni in difesa complimenti anche a loro e niente staremo a vedere le prossime partite fatemi sapere però questa cosa del rigore voglio saperlo adesso un saluto a tutti